Il premio Solinas apre al web e inaugura un nuovo concorso laboratorio fatto su misura per le nuove produzioni YouTube, la bottega delle web series, un progetto di alta formazione che punta a realizzare nuove forme di racconto, promuovendo l'interazione creativa tra autori e registi. La prima edizione sarà dedicata alla commedia e i vincitori avranno la possibilità di realizzare e distribuire le prime cinque puntate della web series selezionata, a parlarci nel direttore del premio Solinas, Anna Maria Granatello. Le web series in questo momento sono esplose, si sono imposte a partire da giovani autori e giovani filmmaker che hanno creato un formato e ci hanno detto che esiste un altro tipo di creatività, libera, forte e libera, che fa numeri anche. È il motivo per il quale broadcaster e soprattutto brand si stanno interessando a questo formato.